Un saluto soltanto e un grazie al CSI di Lecce, al CSI di Terra d'Otranto per questa occasione, che ci porta questa sera nella nostra comunità. Quando Mauro Longo, nella veste di Presidente di CSI di Terra d'Otranto, mi ha chiesto lo spazio per presentare il volume di Giovanni che racconta la storia del CSI di Lecce, nella sua storia, la storia che si è, racconta esperienze, esperienze di attività sportiva, ma soprattutto di attività sociale. Di inclusione, di lavoro costante negli oratori, nei vari centri sportivi della nostra provincia, ho detto subito sì. E poi sono tornato un po' indietro a quell'impegno che una decina di anni fa, un po' prima, insieme a Don Fabrizio avevamo coltivato nella parrocchia dei Santi Medici, nell'oratorio, proprio affiliandoci al Centro Sportivo Italiano e poi da lì è nata una grande amicizia con Marco Carlo Giuri, che lo saluto, nella sua veste sia di Presidente Provinciale, ma anche di Vice Presidente Nazionale di CSI. È un'esperienza davvero bella, una grande famiglia. Mi ricordo sempre quegli appuntamenti, appuntamenti anche di formazione. si respirava davvero aria di scultura, ma soprattutto aria di fare bene per i giovani. Allora, sono davvero contento che Mauro ha preso questo impegno, direttore. Un impegno che porta a far affiliare tante associazioni della nostra comunità cittadina al CSI, ma soprattutto, come dicevamo prima con Marco nel mio ufficio, porta forse a un incontro definitivo tra CSI Lecce e CSI Taradona, in modo da raggiungere l'obiettivo. Quando riusciamo a trovare delle entese, secondo me è importante, per eliminare delle dischiazie che potrebbero esserci tra un CSI e un altro. Si lavora per il CSI della nostra provincia. Questo è, penso, lo spirito che sta accompagnando anche Mauro in questo percorso, che anche in pochi mesi, nonostante il lockdown e quant'altro, ha fatto un gran lavoro. Allora, grazie a voi e ascoltiamo adesso questo incontro che ci racconterà la storia del CSI, ma soprattutto anche le prospettive per il nuovo CSI. Grazie ancora. Immagino che faccia piacere a tutti avere un sindaco che è molto vicino al mondo dello sport, vicino alla gente che ama lo sport. Diciamo che il sindaco è vicino alla gente. Questa terra si presenta un libro di Giovanni Camerino, un giovane vecchio amico. Il centro sportivo italiano di Lecce dà le origini ai giorni posti. Io sono soltanto il moderatore, mi limiterò soltanto a una brevissima introduzione. I protagonisti saranno loro, sarà l'autore del libro, saranno i presidenti, ovviamente, dei due comitati della provincia di Lecce. Chi sono i protagonisti di questa sera? Uso le parole molto azzeccate, che mi sono molto piaciute, di Vittorio Bosio, che è il presidente nazionale del CSI. Agli uomini delle transenne, persone che, come buoni padri di famiglia, fanno ciò che va fatto senza chiedere in cambio né compensi né applausi, ma solo un semplice grazie. Eccovi sono gli uomini del centro sportivo italiano. Loro sono i protagonisti di questa sera. Io ho accettato con molto entusiasmo, anche se da tanto tempo sono lontano dalle associazioni sportive, di partecipare a questa serata, perché amo lo sport e ho un profondo rispetto e grande stima per tutte le persone che si prodigano attraverso lo sport a fare promozione sociale, ad avvicinare i giovani all'attività sportiva, a allontanarli dagli ambienti che non sono sicuramente formativi, non sono sicuramente positivi. Chi sono gli ospiti di questa serata? Sono Giovanni Camerino, che è l'autore del libro. È un perito industriale. L'Enel, adesso in pensione, durante gli anni del lavoro è stato formatore del personale. E dopo anche la pensione, formatore per gli studenti delle scuole secondarie e superiori nei progetti scolastici di scuola lavoro. È una persona che ha meritato due onoreficenze, quella di maestro del lavoro e di cavaliere della Repubblica. Un personaggio illustre, una persona che ho conosciuto soltanto stasera, ma che mi ha istintivamente ispirato tanta stima e tanto affetto. Marco Carugiori, presidente del Centro Sportivo Italiano di Lecce e vicepresidente nazionale. E poi Mauro Longo, presidente territoriale del CSI di terra d'Otranto e anche presidente della Commissione Tecnica Nazionale della Cabilata Sportiva. Quindi loro hanno delle presenze anche in campo nazionale. E veniamo al libro. Vi dico subito che è un libro che fa piacere leggere. L'ho letto di getto senza mal fermarmi un attimo. È un libro che racconta una storia. Che è la storia del Centro Sportivo Italiano sicuramente, ma è una storia che si intreccia con quella del nostro paese. E infatti così come l'è imposta. Poi ce ne parlerà lui, l'autore. Ecco, questa storia nasce con il Centro Sportivo Italiano. Ma il Centro Sportivo Italiano nasce nel 1944. E noi capiamo bene che periodo era quello. Io vi ho chiesto subito perché il Centro Sportivo Italiano è nato nel 1944. Nel momento in cui la nostra nazione ancora non si era liberata del tutto da determinate condizioni. Usciva da un ventennio di dittatura, da una sanguinosa e distruttiva guerra. Non era ancora uscita dalla guerra civile, diciamo, no? Le rotte per la liberazione. Bene, in quel periodo l'Italia sperava nella rinascita. Nel 1945 nasce il Centro Sportivo Italiano a Lecce. Quindi ormai, diciamo, a cose fatte. Si trattava di pensare alla rinascita. Ma alla rinascita, puntando su qualcosa, su che cosa, qualcuno pensò che si potesse partire dallo sport? Tra gli altri, ovviamente. Partire anche dallo sport. Ma dallo sport che avesse un altro significato. Non lo sport come meno esercizio di forza fisica, come volontà di superare altro, come volontà di vincere, come salvazione della propria natura, direi della propria razza, si diceva anche. Ma lo sport, inteso in maniera diversa, come lo intendeva Papa Pio XI, che già agli albori del fascismo lanciava delle preoccupazioni e delle raccomandazioni a vedere nello sport, dei significati diversi. Lo sport come lo considerava nel 1959, durante un congresso nazionale del CSI, Papa Giovanni Mesitaesimo, bellissimi questi riferimenti, caro Giovanni, bellissimi questi riferimenti. Lo sport come veniva inteso lì, come espressione libera dello spirito, come desiderio di superarsi, come coraggio, come azione promozionale delle proprie capacità, dei propri sentimenti, come voglia di stare con gli altri, di competere in maniera giusta e in maniera sana con gli altri. Lo sport è come lealtà. Ecco, in quegli anni qualcuno pensò, qualcuno nel mondo della Chiesa, devo dire, nel mondo dell'azione cattolica, perché il centro sportivo italiano è una creatura della Chiesa cattolica, dell'azione cattolica, pensò che lo sport potesse essere la chiave fondamentale per la rilascita del Paese, perché lo sport poteva agire al di dentro della persona, al di dentro delle coscienze. Queste coscienze che erano state addormentate, assopite, scoraggiate, li ripete per tanti anni, bisognava ridare la forza, ridare la voglia di agire, ridare la voglia di fare, di collaborare, di mettersi al servizio degli altri. Ecco, queste persone posero a fondamento del loro progetto, della loro filosofia, un postulato fondamentale. Lo sport così inteso può essere la molla per la rilascita del Paese. Un postulato è una fede che accompagnava questo postulato. Se lo sport è questo, noi ce la faremo. Riusciremo ad accompagnare le forze sociali, politiche del Paese a rilascere, anche attraverso lo sport. Questa è la storia che ci racconta, questa è l'epifania della storia, questo è l'inizio della storia. Il libro poi, questa storia ce la racconta tutta, con alterne fortune, partendo da questa disgraziadissima situazione in cui mancavano le strutture, mancava ogni risorsa, mancava anche la possibilità di dedicarsi a crearle queste strutture sportive. Io ragazzino, come lui, io qualche annetto più di lui, mi trovai a Lecce con la volontà di fare dello sport, ma con la impossibilità di fatto. E andavo da Don Di Nanni, il quale ci ricevette presso l'oratore senesiano, bellissimo quell'archeologia storica, dico, parli tu. Tu sei amante dell'archeologia storica. Costruire la storia descrivendo i personaggi e le situazioni, facendo riferimento ad ogni possibile aspetto che possa connotarla in maniera ricca, precisa, in modo che possa partecipare il lettore a quello che si dice. E tu mi hai aiutato a partecipare. Io mi sono visto, come ti sei visto tu, dinanzi a Don Di Nanni, dietro il quadro di San Domenico Sale, San Giovanni Bosco, presto l'oratorio salesiano di Lecce, chiedendo la possibilità di fare del calcio. In questi giorni se l'abbia fatta da Facebook ho messo una fotografia con la mia squadra di calcio, proprio per ricordare, anticipando questo momento. Ecco, e da allora, 3-4 anni presso l'oratorio salesiano, la mattina a fine delle preghiere e la sera a giocare al calcio. Una bella storia che ci racconti. La storia poi, attraverso alterne fortune, poi ce la spiegheranno anche Mauro Longo e Marco Garoggiuri, ha continuato fra alterne fortune fino alla situazione di oggi. Ma io mi fermo qui e invito subito lo scrittore del libro a continuare a raccontarcela questa storia. Io ho descritto l'inizio. Che cosa è successo? Spiegaci come hai ritenuto di impostare il libro? Come l'hai impostato? Come sei andato a trovare tutta quella documentazione che fa del libro una miniera di informazione? Descrittici tutto questo. Raccontaci i momenti topici, particolari, importanti di questa scrittura. Prego. Buonasera a tutti. Ringrazio assoluto il comitato di Terratopranto perché se siamo qui stasera lo guardiamo a loro. È stato veramente un piacere ricevere questo invito e inutile dire in questa bella location. Grazie a Dio anche il tempo ci ha dato tre. Ringrazio il sindaco, ringrazio molte persone, molti, molti, molto familiari per me. Giuseppe Manisco, mio collega, amico che mi ricorda tante giornate passate insieme a fare il nostro lavoro, il nostro dovere. ringrazio la mia consuocera, Rita Sambati che vedo qui e le sue figlie e i suoi nipoti. La Rita Sambati è la mia consuocera quanto la sua Simona ha sposato mio figlio Antonio. Da questa coppia sono nati due gemelli di cui oggi, perché li voglio ricordare, perché oggi compiono vent'anni. Francesco è lì sulla destra e Giovanni che purtroppo non c'è perché è l'università a Coriglia. Va bene, sapete questa premessa? Ringrazio il professore, perché mi ha risparmiato alcuni partaggi importanti, c'è tutta la prima parte del discorso, però mi ha invitato a descrivere quello che è stato un viaggio. Nell'effetto è stato un viaggio, un viaggio durato 75 anni, un viaggio in cui il biglietto me lo ha staccato questo signore che sta qui sulla sinistra, Marco Caloggiuli, il mio presidente. Quando una certa sera eravamo alla vigilia di Natale del 2019, mentre stavamo lì a festeggiare, mi chiama da parte e col suo sorriso, sorgnone, che fa, come descrivono nel libro, che fa nei momenti importanti, quando deve dirti qualche cosa di particolare, fa un sorriso che ho mai imparato a conoscere, questo mi ha detto qualche cosa importante. E infatti mi disse, Giovanni, mi piacerebbe che tu scrivessi un libro sulla storia del CSI. E da lì inizio il viaggio, il viaggio che inizio ovviamente, come chiedeva giustamente il professore, da dove hai preso questi documenti per fare questo viaggio? Dalla ISACEM, che è l'istituto che all'interno degli archivi vaticani ha una sezione destinata all'azione cattolica e all'interno della quale c'è una sezione dedicata al CSI. All'interno della quale c'è una sezione dedicata al CSI di legge. presi questi documenti, qui appunto inizia il viaggio che è durato tre giorni questo viaggio preparatorio e dopo aver scattato circa 2000 foto dei documenti, io mi congedai da questa associazione, a questo istituto molto importante, diciamo, e anche ben dove mi senti veramente a casa e presi la via del ritorno. E infatti io sul libro, se vedete, mi pare alla seconda di copertina e scritto proprio la parte conclusiva del libro, dove io dico che percorro questo lungo viale che mi separa dal palazzo dell'azione cattolica fino alla via Aurelia ed ero contento perché avevo veramente messo, diciamo, nel sacco tante, tante cose da scrivere. Però non sapevo che purtroppo dopo due giorni iniziò il Covid e quindi ci vedemmo veramente costretti a cambiare vita. Però sotto certi aspetti questo lockdown per me ha significato la possibilità di stare in casa, di studiarmi tutti quei documenti e di gettar giù, diciamo, una prima parte del mio lavoro. Bene, in questo viaggio, come tutti i viaggi, in questi viaggi tu puoi incontrare ovviamente delle persone, puoi vivere delle situazioni belle o meno belle. Ma la cosa importante che io ho potuto constatare era il filo conduttore che guidava ogni presidente, ogni persona che nel corso degli anni ha guidato questa associazione, l'ha sempre guidata con uno spirito positivo, con uno spirito rivolto al bene dei ragazzi. Niente, hai parlato della situazione di come è nato il CSI a Roma, tra i bombardamenti, quando Papa Pio XII e il Professor Getta, che era un medico, un medico, capirono che, diciamo, tu hai toccato più gli aspetti che hanno preceduto questa situazione. Io invece ho guardato più gli aspetti ai quali sia il Papa sia il Professor che il Professor Getta guardava in avanti. Ricordiamoci che nel 1944-1945 di lì a poco ci sarebbero state le elezioni e votazioni nazionali molto importanti. La situazione politica in Italia era particolarmente grave con questi due blocchi che si erano formati e quindi la Chiesa ebbe la felice intuizione di creare, attraverso anche dei comitati civici, di utilizzare lo sport come elemento di evangelizzazione, di vicinanza ai ragazzi, ai giovani, di vicinanza alla Chiesa. Questo seme ebbe, si sviluppò e addò, venne anche qui a Lecce. Noi troviamo già nel 1945 i primi documenti all'interno dell'Azione Cattolica di Lecce, primi documenti della presenza di un CSI, quando il CSI Centrale invitava il CSI di Lecce a partecipare a delle manifestazioni, documenti scritti. E quindi, ecco, io qua vorrei sottolineare che tutti i riferimenti che sono portati sul libro sono tutti derivanti da considerazioni, da documentazioni comprovanti, che dimostrano, diciamo, la veridicità, l'autenticità della storia che si racconta. Questi dirigenti furono dei veri pionieri. Vorrei ricordarne qualcuno, che sicuramente il professore si ricorderà. Vorrei ricordare il professor Rosacquegna, il professor Wojtek Pankiewicz e poi andando avanti il professor Aldo D'Antico. Tutti i presidenti di questa associazione, perché il libro cita esplicitamente, cronologicamente, i presidenti dell'associazione, descrivendo quello che è successo sotto, diciamo, la loro vigenza. Quindi ricevono Sacquegna, Pankiewicz, Aldo D'Antico, Dino Diso, Antonio Antonucci, Maurizio Pezzuto, fino ad arrivare nel 2007 all'attuale dottor Marco Caloggiuri, presidente di legge e vicepresidente nazionale. Questo piaggio attraversa dei contesti storici diversi, nasce appunto sotto la spinta, no? Della volontà di costruire, di ricostruire sotto tutti i punti di vista questa nazione. Ma ben presto, alla fine degli anni Sessanta e Settanta, incominciano le contestazioni. Le contestazioni che hanno interessato anche il CSI sono famose alcune assemblee dove veniva contestata la presenza del prete all'interno dell'associazione. Molti giovani che erano iscritti all'associazione contestavano, diciamo, perché ci deve essere un prete? Noi facciamo sport, facciamo calcio, facciamo ciclismo, facciamo atletica, ma il prete che c'entra? Ebbene ci vuole tutta l'abilità politica dei presidenti dell'epoca, tra cui un particolare alto d'antico che abbiamo visto in una recente presentazione, ancora di lente, molto attivo, il quale ci disse ragazzi, vedete qua cosa c'è? C'è un crucifisso, noi siamo in un ambiente, in una dependanza della Chiesa, c'è un crucifisso per cui se voi volete stare qui, state, altrimenti quella è la porta, alzatevi e andatevene. Nessuno si alzò e passo questa linea che è rimasta finora. Allora, dico, dottor Marco Caruggioli. Va bene, non voglio adesso dire, ma sicuramente qualcuno ha, leggendo il libro, ecco, leggendo il libro che invito, diciamo, a guardare perché da molti spunti anche interessanti di quelle che sono alcune mine situazioni personali, che se avrò il piacere di fare secondo intervento. No, io vorrei chiederti una cosa, no? Prego. La storia del CSI del Cese non è una storia lineare, tranquilla, serena, cioè è frammentata da crisi, da avanzamenti, da regressioni, da devianze molte volte anche, da quelli che erano gli obiettivi fondamentali. Tony ha parlato di una, gli anni 70, non sappiamo, da un lato presentano una forte accelerazione democratica, no? Però questa accelerazione democratica si accompagna con un anticlericalismo esasperato che porta a quelle considerazioni. Però ci sono anche delle altre cose, degli errori, per esempio io ho visto delle persone, dei responsabili che hanno pensato più a fare carriera o a fare qualche cosa di personale che non perseguire quelli che erano gli obiettivi fondamentali del CSI, quindi ci sono state queste devianze, diverse di queste. A noi queste persone, ecco, magari non le citeremo, tu hai citato alcune persone che invece hanno fatto veramente la storia positiva del CSI, ma ci sono anche dei saggialdoti molto importanti, che secondo me che dobbiamo ricordare, no? Io ne avrei in mente tre, quattro, però potresti dirle tu, anche loro. Ecco, anzitutto dici che importanza ha la presenza dell'assistente spirituale all'interno di un comitato del CSI. E poi indicaci qualcuno di questi sacerdoti che hanno veramente accompagnato il CSI nella sua azione, insomma. Sì, in effetti le domande sono due. Noi, sì, è vero, io ho citato con molta delicatezza, ho trattato gli argomenti che evidenziavano delle devianze. Anche se i documenti in mio possesso erano propane, dimostravano. Chi compra il libro, chi legge il libro, parteggia tutte queste cose. Certamente, certamente. Un po' farò una domanda a Marco Caroggiuri, appunto su questo. Prego, Martino. Sì, sì, ci sono i documenti, ci sono le lettere che testimoniano, diciamo, queste situazioni. Sì, perché non è soltanto il 68, perché il 68, dopo il 68 viene il 70, viene l'80, viene da Gentopoli, viene il vento della corruzione, viene il vento del nepotismo che ha accompagnato la scena politica italiana in quegli anni. E Gesi non è esente da queste situazioni, risente assolutamente di queste situazioni, dove si pensava di un esasperato carrierismo, dove la politica è entrata fortemente all'interno dell'organizzazione. E quindi, inevitabilmente, ci sono state delle devianze. Ci sono state anche delle persone che sono andate forse anche un po' al di là delle loro competenze. Ecco, hanno fatto il passo un pochino più lungo della loro possibilità. E quindi si sono trovate in crisi. E le crisi economiche, finanziarie, purtroppo, sono state... si è dovuto sempre richiedere il, come dire, la copertura economica, finanziarie da parte del CEO per le strade. Però vorrei sottolineare a questo punto una cosa, se il Presidente Marco lo consente. Anche Marco ha sostituito un Presidente che si era messo in queste condizioni, creando un deficit di cassa notevole, molto notevole. Però bisogna dare atto a Marco, e questo è scritto anche sul libro, non sto dicendo niente di più che non è scritto sul libro. Marco e il suo amministrativo, preso, diciamo, la carica di commissari di questo ete di promozione sportiva, dissero no, noi non dobbiamo chiedere nulla a Roma. Ci dobbiamo sbracciare e dobbiamo recuperare noi quello che abbiamo trovato mancante. Questo è stato, diciamo, già un punto di differenziazione del tutto d'altro. Mi chiedi un'idea qualche nome, di qualche sacerdote? Se non sbaglio, c'è un sacerdote di Merina, se non sbaglio. Eh sì, ci sono molte figure. Vabbè, tu parli del nostro grande Don Dinanni. Don Dinanni è stato il prete che ha portato i salesiani a legge. Prima i salesiani non c'erano. Lui è venuto giovanissimo, ne faccio, come dice il professore, una descrizione molto accurata perché ce l'ho davanti. Perché io ero un ragazzo, io avevo intorno ai 10 anni, 10-11 anni e giocavamo sempre in mezzo alla strada. Facevamo appugni alla fine delle partite perché non si riusciva mai. Caccavino. Era tutto lo sport. Però soltanto che molte volte io ritornavo a casa con mia madre che avevo il sangue che mi usciva dal naso perché prendevo dei pugni. Infatti se notate ho il setto nasale un po' deviato da allora. E questo prete che ci guardava e giocavamoci e concludevamo le partite con una scazzottata ci disse domani, domenica io vi porto ad una parte. E ci portò a i salesiani, ci portò a Don Dinani, il quale ci ospitò nel suo piccolo studio, uno sgabuzzino, ci chiese dati anagrafici, se volete giocare a pallone, sì. Da non dare però che noi venivamo da un'esperienza negativa. Perché mentre stavamo giocando nella nostra corte, corte del telegrafo d'asta, se capitate a Lecce andatela a vedere vicino al Palmieri, Lecce vecchia. E venne a trovarci un giorno un ragazzo ben vestito e ci disse ragazzi voi volete giocare a pallone? Sì, comero. Cioè allora dovete venire con me domenica prossima. Vedete a questa parte, a via Conti di Lecce, che è una strada che si trova entrando da Porta San Biagio e che collega Porta San Biagio a Piazza Santo Ronza. Noi andammo lì e questi ci dissero sì, potete giocare, ci presero delle schede, ci fecero dare delle schede, vi daremo i pantaloncini, le magnette, forse anche le scarpe, però portate questo ai vostri genitori e riportateci queste dichiarazioni firmate da loro, da papà o da chi ne fa le leci. La squadra qual era? Fiamma? La squadra era la fiamma. Perché io quando andavo a casa mio padre me la strappò in faccia e mi disse ti spezzo le gambe se tu vai un'altra volta. Sì perché papà? Che cosa c'è? Quella è la sede del Movimento Sociale Italiano. Un attimo solamente volevo citare oggi Don Dinanni che è stato diciamo il primo che descrivo nel mio libro anche Don Federico de Tascalis, l'infaticabile assistente spirituale, questo veramente il vero assistente spirituale che è stato sempre vicino ai ragazzi, ha speso la sua vita per i ragazzi. E alla fine un altro elemento importante è stato Don Piero IV, parroco del mio paese di Merine, che ha avuto il merito, un grande merito di rigenerare un'intera comunità proprio attraverso il gioco, attraverso il CSI. Quella comunità era divisa, era, molta gente non si parlava, non usciva più da casa, i ragazzi non sapevano cosa cosa fare, lui si inventò questi giochi che si chiamavano gioca sport e attraverso quelli fece uscire la gente da casa, li fece nuovamente riabbracciare, li fece vivere nuovamente in pace. Nel libro riporta molti, molti ecclesiastici dei papi, dei vescovi, ma anche dei semplici predi dei semplici sacerdoti. Perché il CSI di Lecce non è stato soltanto il CSI di Lecce, ma è stato il CSI dell'intera provincia. Perché nella provincia c'erano le cosiddette aree, cioè delle delegazioni che godevano di una certa autonomia e che avevano le loro strutture, compresi, diciamo, gli ecclesiastici. Io vorrei ricordare molto rapidamente Don Giovanni Campanella, Don Pippi Tundo, Don Fedele Lazzari, tutti questi appartenenti alla centrozona di Terra Nota, che stasera appunto ci ospita. Don Santo Tricarico, il professor Giovanni Giuncato della centrozona di Gallipoli, il mescolo di Urgento, l'Euga, Monsignor Giuseppe Ruotolo, Don Giovanni, Don Leopoldo de Giorgi, fondatore del centrozona dell'oratorio di Urgento, animato anche molto spesso dal servo di Dio, Don Tonino Bello. Questo è il CSI di Lecce che io ho voluto raccontare, in queste pagine che sottopongo alla vostra attenzione e al vostro, se permettete anche, giudizio. A parto per lui, vorrei chiedere una cosa. Abbiamo visto come la storia del CSI Lecce, che è stata abbastanza travagliata, con periodi neri, eccetera, eccetera. Si capisce? Tu conoscevi benissimo questa storia. Ecco, perché hai chiesto all'amico Camerino di scrivere questo libro? Quale utilità può avere questo libro per la gente che lo legge? Grazie per la domanda e grazie anche a Mauro che ha fortemente voluto questa serata. Grazie alla comunità di Galatone che ci ospita e al suo sindaco. Non siamo in una campagna elettorale, è ancora lontana qui, però questo sindaco è un sindaco bravo, quindi per i galatonesi di questo ve lo devo dire perché, a parte che è amico mio, chi lo vede, chi vede dall'esterno come funziona questa comunità ha solo da invidiare questo tipo di approccio alla gestione della cosa pubblica. Questo è il mio parere personale. Purtroppo non voto, Claudio, per cui non voto qui, voto in un altro territorio un po' più sgangherato. Ed è il sindaco arancio blu per eccellenza, almeno che io ricordi. Quindi se c'è un sindaco che sa che cos'è il CSI perché lo ha fatto da giovane e lo continua a fare nella propria comunità barocchiale, è Flavio Filoni, con il quale ci siamo incrociati anche a limiti del mio percorso. Detto questo, che ci tenevo a dirlo, perché se no sono schietto e abbastanza trasparente sempre, perché chiesi a Giovanni di fare questo libro? Perché sapevo dove avevo preso il CSI insieme a una gabbia di massi come me e sapevo anche dove lo stavo portando. E volevo che questo strumento di una ricerca, perché è una ricerca scientifica prima di tutto, ce l'ha ricordato voi Tec Pankiewicz qualche giorno fa all'Euca, questa ricerca e questo studio rimanesse anche come strumento di conoscenza per porre le basi di rigenerare il futuro di questa associazione, che non è semplice perché poggia sulle gambe di tanti volontari che dividono la passione associativa anche con il lavoro e la famiglia. Io ne sono un esempio, nel senso che dal 2007, come dice Giovanni, sono anche troppi di anni, quindi ormai la mia esperienza come guida del Comitato di Lecce in questi tre anni futuri si etaurisce, perché giusto così c'è un gruppo dirigente che può prendere anche la responsabilità di guidare il percorso. Ed è stato un percorso altalenante, anche abbastanza critico dal punto di vista della gestione economico-amministrativa, perché anche il sistema sportivo italiano nel passato non era come è adesso. La politica aveva concepito anche un sistema che finanziava i territori e quindi finanziava anche comitati come i nostri. Quindi le famose testere che noi adesso ci facciamo pagare 5, 7, 8 Euro, suddando anche tanto per farcela pagare se ce la pagano, a volte venivano compensate dai flussi finanziari che venivano da Roma e senza un sistema minimo di controllo purtroppo ogni tanto qualche marachella in giro si faceva. Ed è anche un pochettino la storia che io poi ho trovato nel Comitato di Lecce iniziando un anno di commissariamento. Quindi dal punto di vista gestionale purtroppo non abbiamo raccontato in questi anni una grande storia. Abbiamo però avuto la pazienza e la forza di capire gli errori del passato e cercare in tutti i modi di iniziare un anno piccolo. Nel nostro piccolo, sia a Lecce ma anche a Serra d'Otranto con Mauro, sia iniziato un nuovo percorso, una nuova forza generatrice di speranza associativa e di sport in questa terra che tanto ancora avrà da dire. Però la voglia di chiedere a Giovanni di scrivere un testo era perché volevo che si cristallizzasse la straordinaria forza di tanti uomini e donne di buona volontà che ci hanno messo veramente tanta passione, che poi è una passione molto naturale, si sta in una comunità piccola di paese, si cerca di crescere attraverso la comunità parrocchiale, si avvicina lo sport, un sport è un momento di aggregazione, di rispetto delle regole, però poi il sangue da rosso diventa arancio blu, per cui adesso è difficile anche togliersi questa casacca dalle banche. Vorrei chiedere a Mauro, così coinvolgiamo anche il Comitato Terra d'Otranto, quali sono state le motivazioni che ti hanno spinto a iniziare questo lavoro, perché tu sei da pochi mesi all'interno del CSI, quindi qual è stata la molla, le motivazioni che stanno da fondamento di questo, perché sai che hai iniziato un percorso abbastanza difficile, impegnativo. Sì, naturalmente c'è da dire che le cose da fare a me non mancavano, c'era una web tv, un percorso scolastico nuovo, un'avventura musicale nuova che parte dalla scuola e che si trasferiva anche attraverso i sistemi che oggi, sfruttando YouTube raggiungono tante persone, quindi la nostra web tv che impegna veramente tanto, quindi non mi mancavano le cose da fare, naturalmente poi la storica frase di John Lennon mi è caduta proprio sulla testa, la vita è quello che ti accade quando sei improvvisamente, che ti accade improvvisamente quando sei impegnato a fare altro. Ecco, quest'anno ricorrono i 20 anni del mio lavoro per il centro sportivo ad Ariamo, un lavoro molto alto allenante che è iniziato a Brescia, dove ho conseguito il titolo di allenatore di calcio, nonostante la forma un po' precaria, ultimamente ho fatto tanto sport nella mia vita, però nel mondo del CSI ho avuto le più belle soddisfazioni nel territorio bresciano, nell'oratorio di Ponte Zanano, nella Valtrompia, dove ho conseguito il titolo di allenatore dopo 4 mesi di duro lavoro, sia teorico che pratico e poi i primi allenamenti, le prime squadrette di oratorio, vedere che non c'era un oratorio, non c'era una parrocchia all'interno del nostro, del tessuto bresciano che non fosse dei colori arancio-blu. È stato un momento bellissimo che il trasferimento poi improvviso verso il Salento ha interrotto, si è riagganciato al terra d'Otanto grazie anche alla figura per me importantissima del supermaratoneta Ezio, Mario Nachira, che per il centro sportivo italiano della Puglia era il procuratore associativo, che mi ha sempre costantemente parlato del centro sportivo e mi ha accostato a una figura che oggi io considero anche un maestro, una persona che mi affianca, il codino d'iso. Per cui le motivazioni erano ancorate a 20 anni prima, era l'idea e la voglia di accostarmi a quel tipo di sport che mi aveva accompagnato nei primi anni di insegnamento di ruolo, perché l'insegnamento come precario era iniziato tanti anni prima sempre in Lombardia, che mi avevano accostato al sport sociale, all'oratorio, alle parrocchie e credo che quella sia la molla improvvisa per cui mi sono detto iniziamo questa avventura sapendo che la mia vita sarebbe cambiata e che quei pochi attimi di tempo libero che ancora mi restavano sarebbero rimasti sicuramente un sogno, oggi veramente H24, la mia vita è piena di impegni e lo sport occupa un posto veramente importante. ancora caro Giuri, molto soddisfatto della risposta che ha dato, ecco il libro serve perché si conoscano degli errori, popperianamente possiamo dire che si impara degli errori e quindi imparare a non commetterli, quindi chi legge quel libro io credo che fa un'ottima formazione intorno al CSI. Ma la domanda che voglio fare è questa, dal libro di Camerino io leggo del suo programma, che è un programma abbastanza complicato, che tocca diversi punti, che ha delle strategie abbastanza importanti, dove c'è attività di formazione, attività di promozione, eccetera, ecco ce lo vuoi illustrare questo programma, perché dal libro risulta molto chiaro l'impegno che tu stai svolgendo, non è un impegno soltanto per promuovere una partitella eccetera, oppure per sanare il bilancio, ma è un programma, è un progetto che affronta in maniera, diciamo, complessiva insieme delle problematiche sociali, culturali, educative. Sì, sarà perché nel primo anno di commissariamento avevo 27 anni, per cui ero abbastanza testa ho letto di un forno, siccome io sono un partito di Don Milani, ho letto un centro di formazione che è intitulato Iker, eh? Sì, ma come la storia insegna, insomma, dietro ai grandi uomini ci sono delle grandi donne, per cui... Ah beh, sicuramente. L'indavoramento per Don Milani è di mia moglie, che è una docente di scuola, per cui diciamo noi, pur sapendo che Don Milani, insomma, aveva altre priorità nella sua attività educativa, però insomma abbiamo voluto orientare il nostro aspetto formativo a quella Iker, no? Anche se poi Don Milani, ripeto, aveva altre priorità, però anche lui ha avuto un approccio allo sport, con il luogo ad esempio. Diciamo che siamo noi, eh? E detto questo, io a 27 anni è arrivato a questo comitato di Lecce che aveva poco più di io, 600 tesserati, 12 società, forse anche meno. Scusa, è da 13 anni alla Presidente. Troppo, sì. È un bel periodo, eh? È un buon periodo. Sì, sono quattro mandati, ho iniziato il quarto mandato, l'ultimo mandato. e quindi avevo compreso che fare il CSI nell'orticello di casa era molto semplice, nel senso che mettevi 12, 13 persone a sedere tutti d'accordo, facevi un mini torneo di calcio a 5 come era all'epoca, se ti riusciva e finiva la storia. Però insomma il CSI non è questo, soprattutto non è nato per questo. CSI è nato per essere una grande dimensione associativa anche in una grande piccola provincia geografica come questa. Quindi parlare con un'unica voce, con un unico corpo e un unico modo di essere associazione. E questo me lo insegnava anche la stessa CSI nei miei primi anni, nei corsi di formazione che io frequentavo fuori dalla nostra Puglia, ho conosciuto un CSI dinamico, un CSI che era un'associazione polisportiva, che la differenza tra noi e le federazioni, quello è, nel senso loro devono fare una disciplina sportiva, devono farla bene e devono sperare anche di poter portare le medaglie a casa. Noi invece abbiamo l'opportunità di essere polisportivi e quindi di attraverso il gioco, che non è solo una disciplina, ma è anche educazione motoria, attività ludica, invito al gioco, ecco fare una serie di attività. Per cui fare una sola cosa, io se avessi voluto sarei stato Presidente per oltre 4 mandati, stando tranquillo a casa mia, facendo quello che facevo. Ma non è così, l'associazione non è quella. Per cui, poi l'ho visto anche da Vicepresidente nazionale, CSI anche in territori similari al nostro, genera lavoro, genera lavoro attraverso l'impresa sociale, attraverso la gestione di impianti sportivi, ecco io voglio arrivare a quello e nel mio piccolo ho tentato di mettere dei piccoli paletti affinché questo cammino diventasse realtà. Certo, ci vuole tempo, ci vuole un percorso, noi nel comune di Lizzanello gestiamo un parco pubblico all'aperto dove sta per nascere un punto di coristoro che è gestito dal CSI Lecce, ci saranno due impianti sportivi che gestiremo noi e che il comune sta riqualificando con i fondi della regione Puglia sulla legge sullo sport, ecco questo nel 2007 era impensabile. E quindi cosa è stato possibile, come è stato possibile arrivare a questo attraverso questo quadro di attività sportive che adesso spazia dal calcio al 5, alla pallavolo, alla pallaganestra, all'atletica, al percorso di formazione che non devono mancare perché è semplice fare attività sportiva con il primo che passa, gli proponi un'attività, ti paga la tessera e finisce la storia. Ma queste persone tu devi far capire che cos'è il CSI, che è una roba diversa dagli altri, perché siamo orgogliosi di doverlo dire. E quindi attraverso la formazione che noi puntualmente proponiamo, certo Covid vuole dire ha limitato tutti e tutto, però anche il web poi ci ha permesso di mantenere un contatto anche con la formazione. Ecco questo era il mio sogno che in parte è realizzato, guardandomi indietro e guardando il libro, anche perché i numeri parlano, i numeri fanno la storia anche. Se i numeri fossero stati quelli del 2007 vuol dire che il mio sogno era rimasto nel mio cuore. Invece il sogno si può dire che è stato quasi realizzato perché comunque sono cosciente di aver fatto insieme a una squadra di matti, cioè io non sono solo anzi, come dice Mauro, tutti gli impegni della vita da solo non avrei potuto assolutamente fare nulla. C'è un gruppo di persone che ahimè mi segue e io seguo loro, ci sopportiamo e ci supportiamo e quindi abbiamo raggiunto quello che abbiamo fatto in questi anni. una domanda a Mauro Longo. So che sei impegnato, per pensare di inizi, in un'attività promozionale, ai contatti, ecco come rispondono i territori? Come rispondono? Il territorio di Calabria credo che risponda molto bene. I territori, le associazioni, le persone, come rispondono al tuo coinvolgimento, la tua richiesta? Ma innanzitutto devo dire che io vengo, prendo in mano il CSI Terra d'Otranto che ha avuto una sua storia abbastanza felice negli ultimi anni. Io ringrazio chi mi ha preceduto, Daniela Diso, ringrazio Dino, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato, che mi hanno regalato la presidenza di un CSI abbastanza robusto, con delle persone che lavorano con tanta passione e che si spendono, più o meno quello che stava dicendo Marco. Anche lì ho trovato un gruppo di persone che mi supportano e che stanno iniziando a supportarmi, perché purtroppo come ha già fatto mia moglie, io condivido anche quello che diceva Marco, avendo un marito iperattivo che ogni giorno se ne inventa qualcuna, anche loro stanno iniziando a capire che purtroppo hanno un Presidente, che ogni tanto se ne inventa qualcuna. I nostri territori stanno rispondendo molto bene, in questo primo periodo di Presidenza sono dando tanta collaborazione e tanta curiosità. Io condivido esattamente quello che diceva Marco, bisogna avere un progetto, bisogna credere in qualcosa e io credo che il Salento, ma anche la Puglia intera abbia veramente in sé le possibilità di poter fare qualcosa di molto bello. È un territorio di gente molto laboriosa, di gente in grado di rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Abbiamo delle realtà che spiccano all'interno del Sud Italia, quindi io credo che i nostri territori possano rispondere veramente bene e possano regalarci un futuro veramente roseo. Ho incontrato molte realtà del tessuto sociale sportivo di Galatole che hanno risposto veramente bene, oggi c'è un congruo numero di associazioni nel centro sportivo italiano. Ma vedo e ho visto nell'evento che abbiamo, nella serie di eventi che abbiamo fatto quest'estate, secondo un unico cartellone che era quello della tredicesima edizione del Grand Prix del Salento, che il Salento ha voglia di sport, ha voglia del tipo di sport che ha sempre curato il centro sportivo italiano. Quindi ecco, io credo che il territorio che io sto incontrando stia rispondendo bene e che c'è veramente tanto bisogno di CSI all'interno del Salento. Io credo che abbiamo approfondito le tematiche. Vorrei ritornare a Camerino. La sua arte di scrittura, di scrittore, ecco, alla fine del libro ha pubblicato una pagina in cui, con questo titolo, vi racconto una favola. Io ho letto questa pagina con molto interesse perché è una favola molto costruttiva e molto bella, che si conclude così. Questa però non è una favola, è una realtà. Raccontaci questa favola sinteticamente, spiegaci che cosa consiste, perché io vedo in quella la favola, l'essenza del centro sportivo italiano. Ti prego, raccontaci. Sì, molto rapidamente, molto sinteticamente. Sì, è una parola veramente da libro cuore, se possiamo usare questo termine. Si tratta, ve lo racconto a modo di favola, però voi tenete presente che si tratta di un fatto vero. C'era una volta un paesino, un borgo della provincia di Lecce che si chiama Giuliano. Non lo so se tutti voi conoscete questo paese, si trova nei pressi di Santa Maria di Leuga. È una frazione di Castegnano del Capo. Perfetto. 400 anime, 80 focolari. Perfetto. E in questo borgo c'erano tanti ragazzini, per grazie di Dio, nascevano dei ragazzini, dei ragazzi, che il cui prete gli aveva messo a disposizione un campetto e loro giocavano al calcio. Però giocavano in maniera disordinata, ogni tanto volava pure qualche frase blasfè, insomma qualche colorita, perché erano ragazzi di strada, diciamo così, insomma. E da quella strada passò un certo giorno un principe azzurro, no? Cioè un principe azzurro dello sport, che gli vide giocare e disse, ragazzi volete facciamo una squadra, facciamo così partecipiamo a dei campionati. Naturalmente a un ragazzino quando gli dici partecipiamo al campionato, è la cosa più bella che possa sentire un ragazzo. Quando gli dici, un ragazzo che gioca al calcio, o comunque uno sport, partecipiamo a un campionato, gli hai dato la vita. E allora tutti questi ragazzi dissero di sì. Gli radunò, cominciò per prima cosa a centro campo, prima di iniziare la partita, gli faceva fare il segno della croce e gli faceva recitare il Padre Nostro. Cose che i ragazzi naturalmente non avevano mai fatto nella loro vita. Niente, man mano, man mano, cominciarono a partecipare un campionato, due campionati, al terzo campionato, incominciarono a vincere le partite. Prima la prima, la seconda, parte e arrivarono primi alla fase provinciale. Cioè vinsero il campionato del CSI organizzato da Marco Baroggiuli. Però noi, Marco ha dimenticato di dire nella sua esposizione, che noi, le nostre squadre, quando vincono un campionato provinciale, vanno a un campionato regionale. Se vincono il campionato regionale, vanno a un campionato nazionale. Cioè, gli si dà i ragazzi la possibilità veramente di confrontarsi con delle realtà diverse, più grandi. Beh, per farla breve, questi ragazzi vinsero la fase provinciale, la fase regionale, e andarono a Montecatini-Lerme, dove si faceva la fase nazionale. Beh, allora qui, immaginate che cosa è successo in quel paese, in quel borgo di 400 persone, dove c'era, no, dove i ragazzi erano, si conoscevano tutti, padre, madre, tutti quanti, il prete, il maresciallo dei carabinieri, il farmacista. Noi dell'Ener dicevamo l'elettricista, l'ucabinista, diciamo. E allora, praticamente, questi arrivarono alla fase nazionale. E tu puoi che la vincano? vanno a vincere, vanno a vincere battendo squadre di Venezia, di Roma e la finale con una squadra di Cremona e gli scaffara otto gol. Naturalmente questi qua, quando ritornarono a casa, il Burman erano degli eroi, erano stati considerati degli eroi. Ebbene, che cosa, perché per me questa è la conclusione del libro? La conclusione del libro, perché effettivamente, come dicevi tu, questa pagina raccoglie il vero spirito del CSI. Cioè, noi, ai nostri ragazzi, non gli diciamo, il nostro non è un campionificio. Noi, ai nostri ragazzi, non gli promettiamo di diventare Maradona del Piero, no. Noi gli diciamo, dovete divertirvi di giocare per... e infatti facciamo giocare tutti il grassottello, il magrolino, quello alto, quello basso, il portatore di handicap. Questi per noi sono i ragazzi più graditi, quelli che ci danno più soddisfazione. E sono tanti i campionati, i rapporti che noi abbiamo con questo tipo di ragazzi. E il libro ne cita alcuni. Noi abbiamo avuto il piacere di avere con noi uno stage della nazionale italiana amputati, dove hanno giocato con noi, si sono allenati per la trasferta ai campionati nazionali dei ragazzi che erano con una gamba. Il portiere era con un braccio. Cioè, diciamo, il massimo di ciò che poteva essere la nostra dedizione a questo tipo di ragazzi. Ma non solo. Noi siamo andati, perché Marco ci ha fortemente spinto in questa direzione, a fare dei corsi all'interno del carcere. Siamo andati a fare dei corsi per arbitri, per far amministrare la giustizia sportiva a dei carcere. Cosa che sembrava, in certo senso, assurda. Eppure siamo riusciti a far fare dei corsi. Una decina di detenuti hanno avuto il brevetto di arbitro proprio attraverso i nostri corsi. E non posso mai dimenticare quando l'ultimo giorno abbiamo consegnato il fischietto e i cartellini giallo e rosso a questi ragazzi, a questi giovani che ci abbracciavano, perché gli abbiamo dato veramente un senso diverso della vita dietro a quelle mura. credo che in questa favola, non favola, sia presente proprio l'essenza, la sostanza, lo spirito del Chiesi. Un'ultima domanda, molto breve, la faccio a Marco Galogiori. Lei ha una prospettiva più ampia, quella nazionale, cioè ha un osservatorio. Quanto siamo lontani dal nord con la situazione attuale? Io so che nel nord il Chiesi è molto forte, una buona tradizione eccetera. Siamo troppo lontani? Come uomini non ci manca nulla, nel senso che come uomini e donne di buona volontà, a parte che siamo uguali anche a chi abita in quelle parti del nord, quindi siamo identici. Anzi, da quel punto di vista noi abbiamo il calore e la passione di essere più dinamici. Dal punto di vista della capacità di avere una cultura sportiva, ancora ci manca tanto. Prima ancora dell'impiantistica sportiva, cioè la società sportiva, ad esempio di parrocchia, è una consuetudine. Anzi, se non c'è raro, quindi nella parrocchia del nord noi abbiamo un gruppo sportivo che non è solo affiliato al CSI, ma è affiliato all'Unione Sportiva Atri, che è affiliato, ahimè, anche in questa terra, all'Asti. In alcuni casi è affiliato anche ad altri enti che non sono proprio di matrice cristiani. Quindi nasce la parrocchia, nasce il gruppo sportivo che fa sport e nella maggior parte dei casi gestisce poi strutture parrocchiali in mente. Avviene nel Brescià, avviene nel Bergamasco, avviene nel Milanese, avviene in Emilia Romagna, dove anche il famoso dopo lavoro degli anni 60-70 portò le diocesi a costruire delle strutture immense che poi negli anni sono andate a finire in gestione agli enti di promozione sportiva. In questo caso c'è sì. Da noi manca l'elemento ancora di avere una cultura sportiva che si domestica, nella famiglia mandiamo il figlio o la figlia a fare un'attività sportiva dai 5 anni in su, è quasi matematico, però l'organizzazione dell'associazione sportiva è ancora un pochettino poco presente e soprattutto con il rapporto con la Chiesa c'è ancora tanto da fare, perché la dinamica dell'oratorio o del gruppo sportivo in parrocchia qui, è inutile che voglio dire ce la giriamo, non esiste e se esiste sono macchie di leopardo. Quindi questo è il divario forte, altri divari non ne abbiamo, anzi. Perfetto, comunque sapete benissimo in quale direzione dovete agire, con la speranza che riceviate ascolto e collaborazione. Non so, c'è qualcuno che vuole fare un intervento? Avevamo promesso un'ora e un quarto per darvi la possibilità di godervi il sabato sera, siamo stati, no? Ligi al nostro dovere. Io mi auguro che il messaggio forte, importante, significativo che è venuto dai due presidenti dei comitati salentini e dall'autore di quel bel libro, sono sicuro che il messaggio sia giunto. Leggiamolo questo libro, io ho intenzione di rileggerlo con ancora più calma, anche se credo di averlo assorbito in maniera significativa. Ricordiamoci di quella favola, è una favola molto bella quella che hanno scritto i cittadini di Giuliano. È una favola che può essere vissuta da tutte le comunità dove ci sia una unità di intenti, una capacità di ascoltarsi, di parlarsi, di collaborare, dove si possa sviluppare una certa solidarietà e unità di intenti. Con questo augurio io auguro una buona serata a tutti voi e ringrazio le persone che stanno qui in tribuna. Grazie.